Have you ever tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out! Benvenuti a questo secondo episodio del lato oscuro del Family Friendly. Oggi parliamo di un personaggio che ha prodotto tantissimi programmi per Nickelodeon, Dan Schneider. Thank you Nickelodeon, thank you Dan Schneider, the genius creator behind the show, we love you Dan! Dan Schneider è il creatore dei maggiori programmi di successo di Nickelodeon e ha lanciato diverse carriere di personaggi di spicco come Amanda Bynes, Josh Peck, Jamie Lynn Spears, Miranda Cosgrove e anche Ariana Grande. Ma dietro tutti questi show fatti di risate, di leggerezza, di adolescenti che vivevano delle vere e proprie avventure, si nascondono dei dettagli inquietanti che la Nickelodeon ha sempre cercato di nascondere. Se non sapete di che sto parlando, la Nickelodeon l'ha nascosto bene. Strane inquadrature, strane allusioni, strane sceneggiature, tutte accomunate dalla stessa cosa. I piedi. I piedi di adolescenti protagoniste di questo show. Non so se siete pronti per questo. Sigla. Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Prima cosa mi scuso per la voce, ha deciso di andarsene non so come mai e quindi ce la teniamo così oggi perché penso che durerà ancora due o tre giorni quindi è inevitabile, mi scuso per questo tono un po' così particolare. Oggi come avete visto dalla intro, come secondo episodio di questa saga del Family Friendly parliamo proprio di Nickelodeon ma in particolare non di Nickelodeon in generale ma di Dan Schneider che è stato un produttore della Nickelodeon che ha dato vita ai maggiori programmi di successo del canale. Nickelodeon e Dan Schneider sono rimasti zitti, hanno fatto finta di niente fino a che diversi youtuber non hanno cominciato a fare caso ad alcune cose. Diciamo qual è il problema, anzi qual è stato il problema, da dove è partito tutto questo scandalo che chiaramente sto per raccontarvi? È partito dal fatto che la generazione Z è cresciuta e si è resa conto che nei programmi e nelle trasmissioni di Nickelodeon c'erano delle strane allusioni. Sia per quanto riguarda vere e proprie allusioni sexuali che da bambini non si capiscono sia un tema preponderante soprattutto negli ultimi show e in quelli più famosi di Nickelodeon cioè la presenza costante dell'inquadratura dei piedi delle giovani attrici. Ma non è solo, passatemi il termine, questo. Ci sono stati tanti altri risvolti tra cui anche dei cameo e delle testimonianze delle attrici in cui si vedono vere e proprie sexualizzazioni di queste giovani messe però in un contesto di programmi per ragazzini. Quindi diciamo che questa cosa è partita dagli youtuber specialmente in America e poi è finita chiaramente anche sui giornali fino a che nel 2018 la Nickelodeon non è stata costretta a licenziare Dan Snyder però sempre facendo finta di niente perché si è messa così e ha detto io non vedo niente e si sono lasciati in buoni rapporti addirittura facendo insieme un comunicato stampa. Evviva! Oggi tratteremo di ogni programma prodotto e diretto da Dan Snyder per osservare tutti i punti inquietanti di ciascuno di essi ma prima di addentrarci in questo mondo fatto di vera e propria perversione perché non mi viene in mente nient'altro vediamo chi è questo Dan Snyder. Dan Snyder è nato il 14 gennaio del 66 a Memphis in Tennessee frequenta per un periodo l'Harvard School University ma dopo due mesi la lascia perché si rende conto di voler fare l'attore quindi inizia negli anni 80 a fare delle comparse all'interno di serie televisive prevalentemente comiche quindi serie film prevalentemente comiche fino al 93 in cui si rende conto che il suo sogno è quello di fare lo sceneggiatore e produttore di serie televisive così agli inizi degli anni 90 viene assunto proprio da Nickelodeon per produrre serie di ragazzi fonda anche una sua compagnia di produzione chiamata la Snyder Bakery tra gli anni 90 e gli anni 2000 produce come ho già detto le serie più di spicco di Nickelodeon tra cui Kenan e Del, Amanda Show, Zoe 101, Icarly, Victorious, Sam & Cat che sono appunto le serie di punta di Nickelodeon che hanno visto la nascita di tante carriere tra cui appunto anche quella di Ariana Grande quindi io seguo questa notizia già da diversi anni perché con il movimento Me Too piano piano è uscita fuori questa... questo retroscena questo scabroso retroscena dietro Nickelodeon e quando mi sono andata a rivedere i video per preparare questo video ho detto che cazzo sto guardando è tutto così strano cioè ogni show prodotto da questo squilibrato gira intorno alla sessualità di ragazzini prevalentemente concentrandosi sui piedi ma non solo era una costante inquadratura di questi piedi di questi ragazzini ma chiedeva tramite gli account ufficiali di queste trasmissioni anche agli spettatori che erano dei bambini di condividere le foto dei propri piedi cioè vedremo tutto nel dettaglio tra poco ma è qualcosa di così abberrante che finito questo video sentirete proprio l'esigenza di andarvi a fare una doccia perché è quello che è successo a me mentre lo preparavo ma i piedi non sono solo il fulcro ci sono addirittura delle scene equivoche con proprio Ariana Grande in cui c'è una sensibilizzazione di questa ragazza che chiaramente Dan Snyder è stato accusato anche dei fan di Ariana Grande che fa delle cose stranissime cioè che sono molto molto equivoche ma se tutto questo vi sembra inquietante chiaramente questo ha sempre un punto di partenza il punto di partenza sono questi bootcamp cioè questi camping in cui si cercava il talento per queste trasmissioni di Nickelodeon organizzati da Dan Snyder e niente poco di meno che Brian Peck se vi state chiedendo dove lo avete già sentito lo avete visto nel video di giovedì scorso che vi lascio qui ma per chi se lo fosse perso in sostanza Brian Peck ha lavorato sia per Nickelodeon che per la Disney e durante il set di Amanda Show ha abusato proprio di uno dei piccoli attori di questa serie e si è fatto solo 16 mesi di carcere e poi è andato liberamente a lavorare per la Disney in particolar modo a Zack e Cody al Grand Hotel ma come funzionavano queste feste? cioè praticamente venivano presi questi ragazzini venivano messi in una piscina insomma c'era questa mega villa insomma senza però il controllo dei genitori infatti ai genitori l'accesso era vietato c'erano questi ragazzini e poi c'erano questo Brian Peck che è stato accusato appunto di abusi sui minori e questo Dan Snyder soli con questi ragazzini dentro la piscina You would be separate from your parents and the parents would be going through their own seminars for the kids it was basic acting classes and it was an opportunity for the kids to get discovered and interestingly enough most of the kids got discovered by the pool they had a pool and I believe like it was like Megan Fox and other female and Hilary Duff was another one who got discovered there at the pool quindi già immaginatevi che cosa può essere successo in questi campi di reclutamento di baby star adesso ripercorriamo tutto quello che ha combinato Dan Snyder attraverso gli show televisivi partendo da Amanda Show Amanda Show fu il primo show la prima serie tv per ragazzi prodotta da Dan Snyder per Nickelodeon ed ebbe un grandissimo successo l'attrice protagonista è Amanda Bynes non so se ve la ricordate è sparita adesso vediamo anche la sua storia tragica che ci ricorderà quella di qualcun altro ma questa ragazza è una delle sopravvissute di Dan Snyder partiamo col dire che Amanda Bynes non ha mai voluto fare l'attrice questa sua carriera è stata lanciata dai genitori avidi che volevano i suoi soldi vi ricorda qualcosa tutte quante le storie delle baby star infatti lei diverse volte ha detto a suo padre di non voler recitare più perché non le piaceva l'ambiente e perché voleva appunto fare altro ma il padre ha fatto orecchie da mercante e l'ha fatta continuare a recitare tra gli anni 90 e gli anni 2000 questa ragazza era all'apice della sua carriera nonostante lei non volesse infatti che cosa succede nel 2010 lei apre un secondo account Twitter perché il primo chiaramente era controllato dal padre perché diciamo che i genitori la mamma non era d'accordo ma come al solito come con il caso delle Olsen non ha fatto nulla e il padre era quello che la spingeva attraverso dei ricatti psicologici a dover recitare quindi lei nel 2010 si apre un secondo account Twitter dove decide di raccontare ai suoi fan tutta la storia l'account è stato confermato perché lei ha pubblicato la foto della sua patente e dei suoi documenti personali per provare ai fan che era veramente quello il suo secondo account cioè ufficiale per lei chiaramente non per i genitori in cui racconta proprio il fatto che lei è rimasta imprigionata tutta la sua infanzia in questo vortice di recitazione che lei non voleva assolutamente vivere ma il padre l'ha costretta attraverso dei ricatti psicologici infatti lei pubblica un tweet in cui dice che sta cercando di emanare un ordine restrittivo nei confronti di suo padre capite fino a che punto questa ragazza era disperata nel 2012 però cominciamo a vedere sui giornali le foto di un'amanda distrutta accumulando un incidente in macchina dopo l'altro a causa del suo abuso di alcol e di sostanze il punto più basso che toccò fu quando provocò un incendio in mezzo alla strada e fu rinchiusa in una clinica psichiatrica e qui ragazzi entra una storia già vista ovvero amanda viene messa sotto conservatorship la stessa identica di britney spears cioè che per chi si fosse perso il video di britney spears ve lo lascio qui ma che cos'è in breve la conservatorship praticamente la legge ti ritiene non più in grado di intendere di volere quindi tu perdi ogni diritto sulle tue cose ogni libertà di decisione della tua vita che viene invece trasferita ad un tutore e indovinate chi era il tutore di amanda vines il padre è una storia ragazzi che purtroppo si ripete ma oltre ad aver una storia molto simile a quella di britney spears qui c'è da menzionare un altro soggetto ovvero proprio dan schneider il suo rapporto con la giovane la giovane lo ha definito per anni il suo secondo padre infatti siccome lei era sempre sul set chiaramente lavorando per nickelodeon aveva preso un po' ad esempio questa figura di dan schneider che alla fine invece si è rivelato un vero e proprio predatore si vedono infatti diversi video di amanda con dan in una maniera un po' stretta quindi diciamo si vede la confidenza che c'è tra i due e sono uscite anche delle scene cameo che era solito fare dan schneider in cui lui compare in questo cameo chiamato jacuzzi dove c'è lui con amanda bynes giovanissima dentro una piscina in un contesto leggermente equivoco ma amanda bynes una volta nel 2010 appunto aperto questo account twitter questo suo secondo account twitter inizia a parlare perché fino ad allora era rimasta in silenzio ed escono dei tweet piuttosto strani come ad esempio questo che dice mister fammi quindi come potete capire al posto del nome di dan ci ha messo queste frasi che quindi sono piuttosto ovvie diciamo sta accusando il produttore di violenza oppure quest'altro tweet in cui dice un uomo in particolare fece centinaia di foto dei miei piedi io avevo solo 13 anni e questa è una delle tante ragioni per le quali io non sarò mai in grado di rimanere incinta oppure ci sono molti predatori sociali a hollywood molte delle voci sono vere alcune delle voci sono false nel 2017 quando è uscito tutto lo scandalo di harvey weinstein lei pubblica quest'altro tweet harvey weinstein non ti riferisci a dan schneider no ah ok nel 2018 poi con l'ascesa appunto del movimento me too amanda decide di raccontare la sua vicenda senza però fare il nome di dan schneider dicendo che una persona che è stata come un secondo padre quindi è palese chi sia le ha causato un incidente così grave che lei non potrà mai più avere figli e come vedete questa è la seconda volta che lo ripete a che cosa si riferisce dei rumor che però purtroppo non sono mai stati verificati si riferiscono al fatto che dan schneider abbia abusato di amanda l'abbia lasciata incinta e poi l'abbia costretta ad abortire quindi che da questo incidente lei non possa più avere figli poi esce con altri comunicati che sembrerebbero confermare proprio questa voce perché pubblica vi lascio questo spezzone in cui se ci fate caso le lettere in grande che è sempre un'accusa contro questo secondo padre misterioso le lettere in maiuscolo formano la frase dan did it cioè dan lo ha fatto quindi sembrerebbe proprio un riferimento esplicito a dan schneider e al suo comportamento da predatore quindi se con l'amanda show si è limitato a farsi vedere in piscina con limitato sempre virgolettato con un'amanda giovanissima già da zoe 101 si vedono diverse allusioni sessuali e inquadrature di piedi che piano piano andando avanti con gli altri show diventeranno sempre più preponderanti quindi zoe 101 è il secondo show realizzato da dan schneider che vede come protagonista jamie lynn spears che sarebbe la sorella più piccola di britney spears quindi come ho detto da qui si cominciano già a vedere le prime inquadrature strane dei piedi più che altro sapete cos'è che sono inquadrature strane perché non c'entrano niente con la storia ma c'è questa cosa questa fissazione dei piedi come ad esempio in questa scena in cui possiamo vedere l'attore che interpretava il fratellino più piccolo di zoe con i piedi nudi messi in una specie di gogna inizia quindi a diventare ricorrente il tema di questi piedi dei piccoli attori una delle cose più strane di questa serie la vediamo con l'attrice erin sanders che interpretava l'amica di zoe infatti ci sono delle foto di quest'attrice abbracciata a dan schneider in cui lui in una foto ha praticamente la mano quasi sul suo fondoschiena mentre un'altra foto è proprio lei in braccio a lui mentre lui le tocca la gamba capite che sono foto piuttosto strane tra un produttore e un'attrice minorenne ma oltre a questo c'è qualcosa di più oscuro qui dietro ad un certo punto la stagione di zoe 101 viene interrotta e questo perché perché jamie lynn spears rimane incinta ancora minorenne quindi chiaramente siccome lei era il personaggio principale non poteva essere sostituita e il pancione si sarebbe visto quindi hanno deciso direttamente di interrompere la serie qui c'è una teoria di alcuni fan che pensano che in realtà il figlio di jamie lynn spears non sia il figlio del ragazzo con cui stava all'epoca ma è proprio il risultato di un abuso sessuale di dan schneider infatti i fan stanno comunando le foto della figlia di jamie lynn spears con la foto di dan schneider e si vedono delle somiglianze piuttosto inquietanti la stessa jamie lynn spears non ha mai smentito del tutto questa notizia anche alexa nicolas è un'attrice che ha lavorato nella serie di zoe 101 interpretava il personaggio di nicole nel 2019 pubblica questo post sul suo instagram in cui appunto si vede la copertina di zoe 101 e sotto l'ultima frase del post recita i canali infantili devono smettere di sessualizzare i bambini è inquietante e un utente le risponde quando sei stata abusata da dan e lei risponde dan non mi sembra una brava persona in assoluto da questa frase che cosa succede dan schneider cerca di organizzare organizza diciamo una riunione con gli attori di zoe 101 cresciuti per fare proprio un reboot della serie e alexa non viene invitata quindi lei pubblica delle storie su instagram una storia in cui piange non per non essere stata invitata ma perché il fatto che abbiano ripreso zoe 101 le ha fatto tornare alla mente dei ricordi piuttosto spiacevoli quindi un contesto dei traumi della sua infanzia dovuti proprio all'aver partecipato a quella serie tv quindi alle riprese sul set infatti pubblica una storia in cui dice il reboot di zoe 101 sta innescando diversi ricordi traumatici dell'infanzia poi addirittura carica questa immagine in cui ci sono cinque uomini differenti che hanno in comune il fatto che tutti abbiano lavorato per nickelodeon e indica i nomi con la causale diciamo con quello che hanno fatto nella descrizione e chi sono questi uomini sono ezel channel che ha lavorato in nickelodeon condannato per molestie sui bambini mentre era proprio nel canale brian peck che già conosciamo ha organizzato questi comedy bootcamp di cui parlavamo prima queste quindi feste in piscina con questi ragazzini soli con lui e dan schneider che è stato condannato a 16 mesi di carcere per aver abusato proprio di un attore di nickelodeon martin ways manager condannato per abuso su un suo cliente e lavorando per nickelodeon i suoi clienti erano tutti bambini o ragazzini jason m andy condannato per pedofilia dan schneider feticista dei piedi condotta inappropriata e circondato dal silenzio quindi sono messaggi piuttosto forti inoltre sempre sotto a uno dei suoi post risponde a un fan dicendole che lei ha lasciato zoe 101 proprio per un episodio che non è stato per niente divertente sul set di zoe 101 non specifica che cosa però ci dice che quell'episodio non così divertente le ha fatto lasciare la trasmissione passiamo adesso ai carli le protagoniste della serie ai carli sono miranda crossgrow e jeanette mccurdy jeanette ha pubblicato un libro in cui racconta tutte le cose scioccanti che sono successe sul set di ai carli e di un altro di un'altra serie che vedremo tra poco in cui ha partecipato tutte prodotte da nickelodeon lei in questo libro racconta sia il rapporto tossico che aveva con la madre perché anche lei non voleva recitare la madre la costringeva infatti ha avuto questo rapporto tossico con la madre che la ricattava psicologicamente quindi le ha causato diversi disturbi alimentari e psicologici ma racconta anche del rapporto che aveva con den schneider che lei nel libro chiama il creatore lei descrive den schneider come una persona sempre presente all'interno delle riprese che creava però un ambiente quasi di ansia non si faceva scrupoli a licenziare i piccoli attori in una maniera degradante urlandogli davanti a tutto lo staff quindi in una maniera proprio umiliandoli davanti a tutti quindi era diciamo una persona che da un lato cacciava questo suo tra virgolette lato buono che ti aiutava a migliorare nella recitazione e poi cacciava questo suo lato malvagio in cui non si faceva il minimo scrupolo con te l'incubo per janet comincia quando den schneider le promette uno show da sola quindi dice mi sei piaciuta talmente tanto ad i carli che ho deciso di fare uno show in cui tu sarai l'unica protagonista questo show non è mai arrivato ma è arrivato un secondo show in cui era coprotagonista di ariana grande nello show chiamato sam and cat che vedremo tra poco e lei racconta di quanto schneider fosse stato pressante con lei dal momento in cui le aveva promesso questo show quindi instaurandole una sorta di ricatto psicologico cioè come se gli avesse fatto pensare che lei doveva comportarsi bene perché altrimenti perché lui le stava facendo un favore a darle questo show classica manipolazione soprattutto con dei ragazzini e che quindi lei doveva essergli riconoscente racconta nel libro che lui spesso le dava dell'alcol nonostante appunto fosse minorenne diciamo facendole questa sorta di lavaggio psicologico questa manipolazione dicendo che invece l'altra serie victorius che vedremo tra poco gli attori di victorius erano soliti bere molto alcol fare feste e che quindi lui si divertiva molto di più con loro piuttosto che con gli attori di i carli che invece erano molto più noiosi e che forse lui può darsi che poteva cancellare lo show capite che ricatto psicologico e quindi lui faceva bere questi ragazzini un giorno addirittura lui si avvicina la prende inizia a massaggiarla inizia a toccarle la caviglia e lei racconta di rimanere bloccata per la paura proprio perché erano da soli in una stanza aveva paura che se lei si fosse tra virgolette ribellata lui poi sarebbe andato oltre quindi è rimasta piuttosto sconvolta da questa situazione tornando al tema dei piedi e delle allusioni dei doppi sensi i carli diventa proprio il programma che sblocca tutto questo feticismo che poi vedremo anche negli altri show infatti non solo nella serie ci sono delle scene molto particolari di piedi che non c'entrano ripeto assolutamente nulla con la trama ma ci sono anche moltissime allusioni sessuali e in più tramite twitter quindi tramite dei tweet vengono incoraggiati i ragazzini a farsi una foto ai piedi con le scritte per lo show ai carli e con l'hashtag ad esempio ai carli quindi venivano incentivati questi bambini a pubblicare le foto dei loro piedi infatti Jeanette racconta che quando ha fatto il provino per ai carli davanti a Schneider si è dovuta togliere le scarpe e mostrare i piedi al produttore quindi dentro lo show c'erano tutte queste scene con ad esempio i piedi delle ragazze colorate disegnate e insomma massaggi ai piedi piuttosto equivoci tutto che girava inutilmente intorno ai piedi di questi ragazzini quindi capite che era già strano più tutte le allusioni su twitter tipo avete visto oggi i piedi di i carli avete visto oggi i piedi di tizia cioè era tutto troppo strano e inquietante proprio a livelli di malattia ma andando avanti con gli show arriviamo a victorius victorius è uno show che ebbe molto successo su nickelodeon uno show formato da 57 episodi questo show è quello che ha lanciato arena grande perché arena grande avrà una parte consistente all'interno di questo show partiamo dagli inquietanti tweet che vi dicevo prima cioè quelli che spingevano i piccoli utenti a inespiegabilmente condividere le foto dei propri piedini su twitter c'è infatti questo tweet che dice vi piacerebbe vedere victoria justice versare ketchup sui suoi piedi victoria justice insomma fa parte dello show di victorius ed è interpretata da tori vega e infatti qualche puntata più tardi si vede proprio questa scena in cui c'è questo ragazzo che butta il ketchup così no sense sui piedi di victoria già il fatto che lui spinga l'attenzione sui piedi è piuttosto inquietante e raccapricciante ma purtroppo e qui preparatevi perché le cose non finiscono qui cioè qui arriva davvero l'inquietante perché i piedi e le allusioni i doppi sensi sembreranno quasi qualcosa passiatemi il termine di meno grave rispetto a quello che sto per dirvi ci sono stranissime clip di ariana grande che solitamente venivano fatte anche in episodi cameo in cui lei fa dei movimenti non so come davvero come spiegarvelo adesso ve lo faccio vedere ma fa dei movimenti e dice delle cose che sono palesemente allusive check this out from a potato in a video come on give up the juice water upside down I'm thirsty I'm thirsty I'm thirsty I'm thirsty I'm thirsty vi sono venuti i brividi vero? io quando le ho riviste mi sono proprio lì qui ho voluto farmi una doccia perché ho detto Dio santo cioè ditemi che non l'ho vista solo io l'inquietudine della cosa infatti c'è anche una clip che ha riscontrato particolare attenzione da parte sia degli youtuber che dei giornalisti in cui si vede proprio ariana grande con un'altra attrice che recita nella trasmissione che si stanno divertendo e stanno ridendo e quando arriva Dan Schneider con la telecamera loro si immobilizzano si rigidiscono e si vede ariana grande proprio che si copre anche le gambe cioè quindi proprio in una sensazione quasi di protezione capito di cioè come se volesse proteggersi e infatti questa scena comunque fa già capire il tipo di ambiente che c'era proprio quando c'era Dan Schneider passiamo a Sam & Cat Sam & Cat appunto è diciamo le due coprotagoniste sono ariana grande e jeanette e secondo i fan di ariana grande questa serie è stata data a loro per cercare di farle stare zitte e non raccontare quello che succedeva sul set di victorius e di iCarly quindi diciamo una sorta di premietto mettiamola così per farle stare zitte e non farle dire che cosa davvero succedeva all'interno di quel set anche qui tramite i tweet vengono chiesti ai bambini di scriversi delle cose sul piede e poi di condividerle anche qui jeanette nel suo libro racconta di come le riprese fossero insostenibili questo perché evidentemente si era cominciata a spargere un po' la voce e quindi Dan Schneider per via più che altro del suo comportamento con i piccoli attori a livello di umiliazioni era stato tolto dal set cioè dirigeva sempre lui però lui si trovava in un'altra stanza mentre la troupe registrava quindi la troupe registrava l'assistente mandava il video a Dan Schneider che si trovava nella stanza accanto perché gli era proibito entrare sul set visionava il video diceva all'assistente quello che andava cambiato e poi si rifaceva la scena in base alle sue indicazioni chiaramente capite che questo ha rallentato parecchio la produzione oltre a far lavorare questi bambini anche fino a luna le due di notte per rispettare le scadenze alla fine per una difficoltà appunto di gestione questo show fu cancellato a questo punto Jeannette pubblica questo video che cosa fa riferimento questo video questo video è un appoggio a quello che è successo a Amanda perché che cosa è successo vi ricordate appunto questi tweet dove lei accusava Dan Schneider all'epoca siccome appunto lei era sotto conservatorship sotto abuso di sostanze e di alcol la gente non le credette pensavano come nel caso di Britney Spears che si fosse semplicemente rincretinita e quindi tutti la sbeffeggiavano mentre Jeannette a questo punto pubblica questo video interpretando Amanda cioè lei era come se stesse interpretando Amanda e stava proprio accusando Dan Schneider di averla ridotta in questo modo quindi non è come dicevano prima i fan insomma le persone in generale che lei accusava Dan Schneider per colpa di alcol e sostanze ma che era stato proprio Dan Schneider a farla cadere nel vortice di alcol e di sostanze quindi capite che la cosa si fa veramente pesante perché qui stiamo sempre parlando di una tv per ragazzini nel 2018 finalmente Nickelodeon decide di licenziare Dan Schneider ma se pensate che Nickelodeon abbia fatto le proprie scuse a tutto il mondo vi sbagliate di grosso perché addirittura Dan Schneider e Nickelodeon fanno uscire un comunicato stampa insieme in cui dicono che la loro collaborazione dopo tutti questi anni è finita perché la casa di produzione di Dan Schneider ha iniziato anche dei nuovi progetti paralleli e che quindi non riesce più a gestire il lavoro con Nickelodeon Indem per Nickelodeon quindi diciamo che per mancanza di tempo non riescono più a far coincidere i progetti e quindi che si lasciano amorevolmente e Nickelodeon ringrazia Dan Schneider per tutto il successo che ha portato al canale a Nickelodeon quindi per farvi capire la tristezza della situazione casualmente è stato rilasciato nel 2018 proprio all'apice del movimento Michu cioè la collaborazione tra di loro è finita nel 2018 quando il movimento Michu era all'apice e stava cominciando a dare credito alle cose che ai racconti di Amanda e quindi piano piano gli youtuber stavano anche riprendendo tutti questi scandali che casualità quindi in tutto questo per dirvi che Nickelodeon in realtà non si è mai scusata ha sempre fatto finta di niente fino a che le accuse hanno avuto una portata così alta che non ha potuto far altro che licenziare Dan Schneider però senza dire niente cioè si è messa così ha detto io non voglio sapere niente lo togliamo e questo ragazzi era tutta la parte oscura di Nickelodeon e di quest'uomo che non è mai stato condannato è ancora libero e si è approfittato di ragazzini che per paura di perdere la loro carriera non hanno potuto denunciare e anche qui torniamo al succo della questione cioè il fatto che una denuncia per molestie sia vista come la fine della propria carriera e non come una solidarietà soprattutto per quanto riguarda persone che sono minorenni e questo ragazzi è il video spero di non avervi sconvolto troppo con queste cose andatevi a fare una doccia se ne sentite la è il bisogno mi dispiace di avervi rovinato questi bei programmi e ricordi che avete in questi anni ma questo è il mondo dello spettacolo noi ci vediamo martedì vi auguro un buon weekend e quindi ciao ciao